Una città strana e piena di insidie, bagagli pesanti da trasportare, dogane difficili da passare, un aeroporto che riserva molte sorprese. Tutto questo è Palermo Staccuriti, occhio vivo a Punta Raisi. La famiglia Ruffelli Salam è appena arrivata a Palermo da Tunisi per far visita ai propri parenti. Durante il controllo dei bagagli vengono trovati alcuni accessori e alcune pietanze che non sono state dichiarate alla partenza. La signora Rosa per gli amici Samantha l'ha presa male ed ha deciso di multarli per possesso di cibo fuori legge. Il signor Isalam e la sua famiglia, dopo aver pagato 500 euro di multa, sono stati rimpatriati in Tunisia. Siamo sicuri che durante il tragitto avranno pregato il loro Dio affinché si prendesse cura dell'anima di Samantha. signora... Ma io neanche la sogna cossettinta. Ecco, è una vita di insomma è lavorare e ci vuole occhio vivo a Punta Raisi. Musica